ciao a tutti oggi parliamo dei nuovi banjo feeder xs un pasturatore strepitoso a mio avviso perché racchiude diverse caratteristiche che ci aiutano a poter presentare l'esca nel migliore dei modi andiamo a vederlo nel particolare in sostanza il nuovo banjo feeder xs è dotato di un profilo molto pronunciato che crea una specie di vasca vaschetta dove all'interno possono essere veicolati sia pellet che pastura qual è la sua particolarità è proprio dovuta al fatto che queste sponde questo profilo è dotato di sponde permette di arrivare sul fondo con la presentazione pressoché perfetta ad ogni modo esistono diversi accorgimenti per poter sfruttare al meglio le caratteristiche del nuovo banjo feeder xs uno fra tutti è quello del posizionamento corretto dell'esca nello strato di caricamento partiamo dall'inizio cosa succede se noi creiamo il banjo feeder con l'esca on the top sulla superficie chiaramente la rendiamo disponibile immediatamente a quello che è il pesce che arriva sul pasturatore però che cosa succede succede anche che essendo proprio in superficie se il tragitto da compiere per arrivare sul fondo è abbastanza importante allora a quel punto potrebbe succedere che il nostro innesco arrivi sul fondo in maniera abbastanza non fissa ecco in maniera non fissa cioè molto olabile e basterà un piccolo spostamento d'acqua per fare in modo di far cadere quello che è l'esca dal dal profilo e far uscire l'esca dal profilo del pasturatore questo è veramente quello che non si vuole ottenere con usando questo tipo di pasturatori perché questo tipo di pasturatori prevedono la presentazione dell'esca sopra a quello che è il carico pagante che sia pastura o che siano pellet quindi di conseguenza per ottenere la miglior presentazione in acque profonde oppure in acque molto popolate da pesci il la posizionamento dell'esca deve essere fatto in modo che una volta arrivato il pasturatore sul fondo possa essere poi possa si possa dare il tempo ai pesci di poter iniziare a mangiare quello che è il contenuto del pasturatore mangiando il contenuto del pasturatore chiaramente mangeranno anche l'esca e a questo punto l'esca potrà essere un esca bottom cioè un qualsiasi bandum sonobite bottom di qualsiasi dimensione perché comunque viene aspirato insieme a quello che è il carico pagante del pasturatore se noi utilizziamo se noi utilizziamo un wafter cosa può succedere può succedere che soprattutto se lo mettiamo nella parte superiore a come dicevo prima al minimo movimento di acqua l'esca insieme al lamo cade dal pasturatore si mette praticamente in una posizione esterna a quello che è il piatto quando noi mangiamo mangiamo in un piatto e questo non è altro che fornire una presentazione al pesce con un piatto del numero uno chiaramente la carpa quando arriva arriva sul pasturatore e aspira il contenuto tralasciando qualsiasi cosa è attorno al pasturatore perché perché comunque attorno al pasturatore chiaramente può esserci l'inganno stiamo parlando di pesca in carpodromi dove le carpe sono diciamo hanno sviluppato un senso abbastanza importante rispetto al pericolo dovuto all'esca che allontana dal pasturatore quindi di conseguenza quello che a noi può fare la differenza è proprio il fatto di posizionare l'esca nello strato ideale per poterla rendere disponibile insieme a quello che è il carico pagante andiamo a vedere come molto semplice molto semplice possiamo utilizzare sia il mold perché i nostri nuovi banjo feeder sono dotati anche di mold che non è nella 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 anche se lo vedete giallo non è il mold del long distance per intenderci del metodo long distance ma è specifico specifico per i nostri banjo feeder oppure caricare con le mani in genere si può fare anche una via di mezzo per essere più veloci quindi andiamo a in questo caso sto usando pellet sticky perché comunque danno la possibilità di poter creare proprio un pasturatore super compatto per affrontare anche profondità che vanno a 10 metri per dire no senza nessun problema quindi creiamo il primo strato vedete con lo sticky andiamo a comprimerlo con le mani in questo modo dopodiché posizioniamo l'esca al centro in questo modo così vedete e poi non facciamo altro che andare a finire il nostro pasturatore caricandolo con una mold non troppo pieno in questo modo lo mettiamo sopra chiaramente i nostri mold hanno sono unici hanno questo sistema di rilascio che è ultra fotonico non sbaglio un colpo e noi andiamo a creare questa situazione la vedete ve la faccio vedere meglio perché merita allora io non l'ho schiacciato perché chiaramente se andiamo a schiacciarlo andremo a comprimere troppo le pellet e il tempo di rilascio sarà troppo quindi potremmo vedere delle cariche sulla canna e queste cose è giusto così provate così perché è giusto così quindi ve lo faccio vedere eccolo guardate perfetto direi cosa succede succede che il pasturatore all'impatto chiaramente ci siamo no l'impatto deve essere con la parte diciamo inferiore sul sulla superficie dell'acqua impatta scende perché quella parte superiore perché se entra così chiaramente abbiamo già un'azione un attrito dell'acqua sulla parte superiore del nostro banjo feeder che potrebbe andare a compromettere la consistenza del nostro caricamento quindi lo facciamo atterrare semplicemente stoppando la canna prima che il pasturatore arrivi nella posizione dove noi andiamo a pescare utilizzando la clip anche oppure solamente contando nel lancio per poi dopo andare a fermare col dito il filo che sta fuorescendo dal mulinello e il pasturatore a terra sull'acqua in maniera diciamo orizzontale dopodiché scende una volta arrivato sul fondo nella discesa chiaramente l'acqua comincia a lavorare la parte superiore creando diciamo una situazione di ammorbidimento di quello che è la crosta superficiale questo chiaramente consente magari anche di perdere qualche briciola che poi servirà ai pesci per essere intercettata e scendere sul fondo a trovare il carico intero del nostro pasturatore se noi mettiamo l'esca nella parte superiore questo ammorbidimento potrebbe creare quel problema di cui abbiamo parlato prima è vero che anche che comunque questa situazione dell'esca nella parte superiore può essere sfruttata per velocizzare l'azione di pesca cioè se noi stiamo pescando in un'acqua poco profonda dove ci sono dei pesci che aggrediscono immediatamente quello che è tutto quello che cade nell'acqua perché la competizione alimentare è alta a quel punto mettere l'esca nella parte superiore potrebbe essere una mossa vincente però comunque se vogliamo catturare i pesci più grossi l'esca deve il banjo feeder deve essere così esattamente così perché lavora l'acqua lavora una volta arrivato sul fondo la parte superficiale il pesce arriva col movimento delle pinne perché non è che va diretto col movimento delle pinne perché un pochettino siccome non è solo un pesce saranno più pesci sposta quello che è la parte superiore pelleto la pastura che nella parte superiore e rende visibile l'esca o perlomeno la rende diciamo prendibile da quello che è la bocca del pesce perché il pesce dopo essere dopo aver fatto una piccola perlustrazione comincia a mangiare con la bocca va sul pasturatore e aspira quello che è il nostro carico pagante una volta aspirato chiaramente prenderà anche la nostra esca perché la nostra esca è in questa posizione perfetta vedete per essere presa provate a fare questo caricamento e vedrete che i nostri banjo feeder xs vi forniranno il massimo della tecnologia e del sviluppo del pasturatore per acque commerciali per fare in modo di aumentare le vostre prestazioni ciao a tutti ciao